Abbiamo due resistori da 5 ohm e 10 ohm collegati ai nodi A e B. I due resistori sono evidentemente collegati in serie. Ci viene indicata la caduta di tensione ai capi del resistore da 10 ohm, nella fattispecie la caduta di tensione di 20 volt. Ci viene chiesto di calcolare la tensione ai nodi A e B. Per poterla calcolare è sufficiente calcolare la corrente che circola in questo ramo sui due resistori da 5 ohm e 10 ohm e una volta nota questa corrente sarà facile poi calcolare la caduta di tensione sul resistore da 5 ohm e quindi sommando la caduta di tensione sul resistore da 5 ohm e sul resistore da 10 ohm otteniamo poi la tensione ai nodi A e B. I due resistori intanto li chiamiamo R1 ed R2 per poter svolgere più semplicemente i calcoli e quindi sappiamo già che la caduta di tensione su R2 che indichiamo con V R2 è pari a 20 volt come dato dell'esercizio. Ricordiamo inoltre che è la caduta di tensione data dal prodotto tra il valore della resistenza del resistore e la corrente che lo attraversa, quindi dalla legge di Ohm abbiamo che V è uguale ad R per I. E quindi sappiamo che questa caduta di tensione sul resistore R2 è data dal valore del resistore R2 per la corrente che lo attraversa. Noi conosciamo sia V R2 sia il valore di R2 quindi possiamo invertire la legge di Ohm e calcolare la corrente come rapporto tra la tensione V R2 e la resistenza R2. V R2 vale 20 volt R2 vale 10 Ohm quindi 20 volt diviso 10 Ohm è pari a 2 questi sono Ampere cioè la misura dell'intensità di corrente. Bene ora che abbiamo calcolato la corrente I che attraversa R2 possiamo affermare che la stessa corrente I attraversa anche R1 poiché questi due resistori sono collegati in serie. E possiamo ora fare un semplice calcolo cioè il calcolo della tensione della caduta di tensione sul resistore R1. Qui passiamo alla seconda pagina dello svolgimento di questo esercizio dove andiamo a calcolare la caduta di tensione su R1 come prodotto del valore della resistenza di R1 per la corrente che lo attraversa I. I l'abbiamo già calcolata ed è pari a 2 Ampere ed R1 come dato dell'esercizio è pari a 5 Ohm. Abbiamo dunque che 5 Ohm per 2 Ampere è uguale a 10 Volt e questa è la caduta di tensione su R1. In definitiva ora abbiamo la caduta di tensione su R1 e quella su R2. Una è pari 10 Volt e l'altra è pari a 20 Volt. Possiamo dunque calcolare la tensione adesso ai nodi A e B come somma di Vr1 e Vr2. Quindi 10 più 20 Volt è pari a 30 Volt. Questo calcolo poteva essere svolto anche più rapidamente osservando che il resistore R1 è la metà del resistore, ha una resistenza che è pari alla metà della resistenza del resistore R2 e quindi poiché questi due resistori sono attraversati dalla medesima corrente evidentemente la caduta di tensione su R1 sarà pari a quella di R2 e quindi se su R2 abbiamo una caduta di tensione da 20 Volt su R1 che ha una resistenza pari alla metà di R2 avremo una caduta di tensione pari alla metà di 20 Volt che 10 Volt. Un altro modo ancora per calcolare in maniera formale senza appunto introdurre il ragionamento che abbiamo appena fatto, per calcolare la caduta di tensione su R1 potevamo ad esempio ricorrere alla formula del partitore di tensione che si compone di due resistori R1 ed R2, a questi due resistori viene applicata una tensione V in e viene prelevata una tensione V out. Sappiamo dalla formula del partitore di tensione che V out è uguale ad R2 per la somma di R1 ed R2 per V in. Benissimo, nel nostro caso abbiamo che la nostra incognita è via B e cioè la tensione applicata a questo che può essere visto come un partitore di tensione. Quindi V in è la nostra incognita mentre conosciamo R1 ed R2 e conosciamo anche V out che sarebbe la caduta di tensione su R2 pari a 20 Volt. Non ci resta dunque che invertire questa relazione andando a calcolare V in come prodotto di V out per la somma di R1 ed R2 diviso R2. Quindi abbiamo portato R1 più R2 a sinistra, quindi va a moltiplicare V out, R2 lo abbiamo portato a sinistra ed ora va a denominatore e quindi abbiamo invertito la formula del partitore di tensione. Ora conoscendo V out che è pari a 20 Volt ed R1 ed R2 che sono pari a 5 e 10 Ohm e applicando questo semplice calcoletto otteniamo 30 Volt che è la tensione misurata in nodi A e B che in questo caso sarebbe la tensione applicata al partitore di tensione se appunto il nostro circuito di partenza lo riconduciamo a questo schema circuitale. E con questo abbiamo risolto l'esercizio. Grazie per l'attenzione e alla prossima! Grazie a tutti!